Ritorna nella città di Lecce dopo ben 12 anni il Salone Nautico del Salento, NautiGo. Ancora una volta sarà il Polo Lecce Fiere in Piazza Palio ad ospitare per ben 5 giorni più di 30 aziende del settore, in rappresentanza di alcuni dei più importanti marchi della cantieristica nazionale ed internazionale. E poi seminari, dibattiti e ospiti dall'1 al 5 marzo. Il 3 marzo ospite d'onore sarà Marco Volpi, pluricampione, membro della nazionale italiana con 58 titoli nazionali e mondiali. Noi abbiamo una presenza importante di espositori di imbarcazione, avremo oltre 80 imbarcazioni dentro Piazza Palio e più di 80 motori marini, più tutto il resto accessori e servizi vari. È una compagina, credo, espositiva di tutto rispetto. È una manifestazione che porta la nautica, accorsa la nautica a tutti. È un evento a tutto tondo sul mare. L'iniziativa, supportata dalla Camera di Commercio di Lecce, punta a rispondere alle necessità e alle richieste di espositori ed operatori del settore e dei numerosissimi appassionati del mondo della nautica. Si è ritenuto di promuovere questa fiera, questo importante appuntamento anche per parlare delle problematiche che nella nostra Puglia non sono poche rispetto ai posti barca che mancano, ai porti che mancano. Diciamo che siamo una regione completamente distesa sul mare, è una provincia che ne ha addirittura due, però siamo ancora molto arretrati rispetto ad altre regioni, rispetto proprio alle infrastrutture minime per poter incentivare questo tipo di turismo. Ad oggi la Puglia ha enormi potenzialità in termini di ospitalità nautica, con più di 8.000 posti barca. Il settore della piccola e media nautica riveste a livello locale un ruolo estremamente importante. Basti pensare che Gallipoli e Taranto registrano tra i più alti numeri di immatricolazioni di gommoni in Italia. La Blue Economy insomma ha tutte le carte in regola per decollare anche qui. Stiamo costruendo una strategia regionale che porti a una consapevolezza diffusa che la più grande e straordinaria opportunità che ha il nostro territorio è valorizzare il mare in modo differente. Credo che questa tre giorni può essere il lancio di una visione di un Salento protagonista, di un Salento attivo e che ha necessità di riconnettere le opportunità che vengono dal mare. Grazie. 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 Grazie.